Le cause sembrano chiare, naturalmente ci sono in corso le indagini, è successo un incidente, un mezzo che stava andando a soccorrere un altro mezzo si è ribaltato durante il guado di un corso d'acqua, gli occupanti sono rimasti intrappolati dentro il mezzo e naturalmente le condizioni meteorologiche, l'acqua fredda e le particolarmente avverse condizioni meteo hanno fatto il resto. Chi era Francesco? Francesco chi era? Un ragazzo di 28 anni, lo ne faceva il 29 maggio, pieno di vita, contento della vita e di quello che stava facendo, oltretutto era un ragazzo molto estroso, aveva tanti amici, quando veniva qua infatti era ben voluto da tutti ed era contento di quello che stava facendo. Sapeva che le missioni erano pericolose, però nessuno l'obbligava in famiglia a fare questo lavoro, è stata una sua scelta sin dall'inizio. Si è entrato sette anni fa, ha iniziato a fare questo lavoro, non era la prima missione che faceva, perché già ne aveva fatto tre, lui era stato un'altra volta in Afghanistan, però un'altra volta in Libano, se non sbaglio, comunque non era la prima missione che faceva. Chi fa questo lavoro diceva sempre, guarda che i pericoli ci sono sempre, perché è sempre una missione, però lui ne era cosciente, lo faceva con passione e finora era andato tutto bene, purtroppo. Faceva questo lavoro, quello che guadagnava e pensava a spenderlo, a farsi magari qualche viaggio, a coltivare i suoi hobby. Ancora al pieno, chiaramente a 29 anni, un ragazzo che ancora pensa in grande. Lui tornava sempre molto volentieri comunque a casa? Sì, tornava molto volentieri perché lui era legato molto alla sua terra, peraltro, ripeto, aveva tanti amici che gli volevano bene, ogni volta che veniva qua sempre si organizzava. L'ultima volta che è venuto è stato a gennaio perché era morto suo nonno e con l'occasione è andato a versi la partita a Palermo-Napoli, perché era tifosore del Palermo, quindi si è organizzato con amici suoi. L'ho visto crescere, un ricordo meraviglioso, un ragazzo molto bello, bellissimo, nella sua vita molto vivace, era sempre in armonia con gli amici, un ricordo dolcissimo. Ho saputo che era uno dei più bravi ragazzi di Termini, uno dei più amati. Forse lo può dire anche qui la signora, aveva sempre sorriso, non teneva rancore. Lui partiva sempre, ne aveva fatte altre missioni, ma partiva sempre con grande piacere, piacere della vita, ma anche di essere partecipi ai problemi della nazione, diciamo un po' tutto. Come dire, l'elenco si cresca purtroppo in maniera inesorabile. E' chiaro che questa volta, come dire, la causa è da ricercare in un fatto incidentale, ma non la toglie al fatto che Messineo era lì per fare il proprio lavoro ed era andato in missione di pace, ritorna purtroppo non più in vita. Questo è un sacrificio che paga la sua famiglia, lo paga ad altissimo prezzo, ma che paga anche questa comunità, che si vede sottratto un suo figlio. E' davvero difficile pensare che questo numero di italiani continui davvero a crescere, soprattutto con l'idea di portare la pace lì. Ma se questo significa pagare prezzi e pagare prezzi altissimi, bisogna davvero rimeditare se ci sono tutte le condizioni per continuare questo impegno che fino ad oggi molto probabilmente ha portato lì qualche sollievo. Ma a noi ha portato sicuramente molti feretri e molti bandiere tricolore che ritornano qui e che portano poi i nostri familiari a piangere inesorabilmente sulla sorte dei loro cari che sono scomparsi.